Per quello che riguarda invece le vaccinazioni, insomma ieri è stato inaugurato l'Hub in fiera, gli obiettivi di inoculazioni sono molto ambiziosi e lei tuttavia rivendica alcune criticità presenti al momento quali? Io rivendico serietà, poi le criticità sono situazioni da affrontare. La prima serietà è ammettere che noi siamo in fondo alla classifica per vaccini fatti, ne abbiamo tanti in magazzino e io temo che il governo ne mandi meno in Liguria perché noi ce l'abbiamo in dispensa, come è giusto che poi sia. Seconda questione, noi rischiamo di deprivare tutto il processo che aveva funzionato con i tamponi, che è quello dell'aria fuori il centro città, le vallate e le delegazioni. Oggi ho fatto una denuncia fotografica all'ospedale evangelico di Voltri, la gente sta all'aria aperta, con i bidoni della spazzatura, se piove con l'ombrello, non c'è una sedia, ci stanno portando gli ultra settantenni e gli ultra ottantenni. Anche le farmacie vediamo che hanno pochi vaccini, così come i medici di medicina generale si sono dovuti ribellare onde evitare che almeno i prenotati potessero fare la vaccinazione. L'obiettivo, secondo me, va raggiunto attraverso tutti i possibili canali, anche qui mancanza di trasparenza, non sappiamo costi, modalità con cui si sono scelti i luoghi e speriamo che non ci sia bisogno di fare i vaccini a settembre perché la fiera del mare deve occuparsi anche del salone nautico. L'ambizione c'è, l'ambizione è necessaria perché l'economia può solo sperare di avere nella vaccinazione di massa la possibilità di tornare a una vita ordinaria. Tutte le filiere del turismo, tutte le filiere, noi parliamo sempre di bar, ristoranti, dietro ci sono i fornitori e i produttori perché noi beviamo e mangiamo cose che non fanno né i baristi né i cuochi. Abbiamo intere filiere, tutta l'area del turismo vuol dire i pullman che servono per portare i turisti, quelli che accompagnano i croceristi, abbiamo le agenzie di viaggio, le guide, uno potrebbe stare tutto il giorno a elencare la disperazione.